Ciao, buongiorno, sono Giuseppe Minucci, lavoro da Pollastri da più di 6 anni ormai e collaboro insieme al mio collega Domenico Russo alla gestione del reparto macchine utensili. Alle mie spalle potete vedere una Faggima Creos 5 Assi che è stato uno degli ultimi acquisti dell'azienda Pollastri ed è stato acquistato soprattutto per far interfacciare a nuove lavorazioni a 5 assi, iniziando da lavorazioni semplici a lavorazioni comunque più complesse e si spera che con il passare del tempo e degli anni i clienti possano esuffirire di questo nostro servizio e inizieremo a mettere a disposizione già da ora, già da subito. L'azienda dal punto di vista di produzione credo che sia comunque migliorata tantissimo soprattutto perché c'è stato anche un cambio di gestione a livello di reparto ma anche a livello aziendale e questo soprattutto grazie ad una collaborazione molto più forte tra i colleghi, come ad esempio anche io nel reparto con il mio collega ho comunque un buon rapporto e questa è una cosa che penso che sia fondamentale in qualsiasi azienda. Allora consiglierei alle altre persone di venire a lavorare qui prima di tutto perché siamo un gruppo di ragazzi giovani per la maggior parte, siamo ragazzi comunque che abbiamo una grande voglia di migliorare, di far vedere il nostro potenziale e speriamo che anche i clienti vedano in noi questo potenziale e che ci diano comunque la possibilità di crescere, di migliorare e far vedere le nostre potenzialità. Grazie per la visione!